E' sera tardi. Sono venuto a trovare il dottor Roberto Petrella nel suo studio vicino a Teramo. La cosa bella è che tu vivi qui dentro. Dormi qui, studi qui. La notte. Tu vivi immerso negli studi. Studio di notte perché nel silenzio. Vedo i libri e mi ricordo quello che ho studiato. Per cui riprendo appunti, la mattina lo do alla segretaria e lei mi scrive tutto. Difatti io qui faccio tutti gli esami particolari. Cioè per il fegato certi esami e non per l'ipertensione certi esami. Faccio vedere qualcosa. Vedi, questo è per esempio le domande che io faccio a chi viene a controllare la prostata. E scrivo, non so, strancuria, pollacchiuria, disuria. Allora io al lato ci ho messo strancuria, minzione difficoltosa e dolorosa. Pollacchiuria, minzione frequente, disuria, frusta. Perché il paziente non sa che significa strancuria, pollacchiuria, disuria. Allora io gli spiego la parte medica per il medico e poi la parte per la persona che non sa il significato. Quindi io già facendo nicturia, bruciore nell'urinare, dolore. Io facendo queste 24 domande riesco a fare la diagnosi. Perché? Se uno ha problemi alla prostata, avrà problemi nella colonna, lungo la gamba, come una lomposciatalgia. Per cui se ha dolore alla colonna vertebrale, se si gonfiano i piedi, dolore vertebrale. Insomma è un aiuto nella diagnosi differenziale. Poi, quindi io faccio, in base a questa sintomatologia, sono 24 domande, io riesco più o meno a sapere che tipo di ipertrofia prostatica ha. Certo. Poi, guarda, io sono venuto qui, tu mi hai fatto un esame, adesso con quella macchina incredibile, e tu hai fatto una cosa che mi hai detto che non fa nessuno. Cioè tu non solo hai esaminato la prostata, ma anche i reni. I reni? Perché? Perché nessuno fa l'ecografia ai reni. Perché i reni sono collegati con la prostata. Cioè, l'ipertrofia prostatica sono tre le cause. O ormonale, che nessuno richiede, quindi io farò una richiesta di ormoni maschili, femminili. Un altro motivo è la dieta, che nessuno fa, perché noi mangiamo di tutto, pane, pasta, dolci, zucchero, e poi c'è l'infezione batterica, che nessuno prende in considerazione. Cioè, il rene filtra da 150 a 180 litri di sangue al giorno. Per cui, qualsiasi ferita, le carie, un forungolo, tutti i batteri vanno nel rene. Il rene filtra, quando non ce la fa più, forma la cosiddette papillite renale necrotica e microcalcoli. E col tempo può formare le cisti, che non danno sindomi, però creano infezione, miliardi di batteri, scendono lungo l'uretere e infettano la vescica e la prostata. Quindi una delle cause è questa. Tu vai alla ricerca, cioè praticamente fai una ricerca completa, cioè a 360 gradi su ogni tipo di problema. Noi abbiamo parlato della prostata, però tu ti occupi nelle donne. Io faccio l'ecografia oncologica. Me lo permette l'apparecchio. Quell'apparecchio costa 140.000 euro. Vedo tutto, insomma. Io vedo tutti gli organi, vedo la tiroide. E in base a un software, si chiama elastosonografia, io riesco a vedere se un nodulo può essere maligno o benigno. È chiaro, ci vuole esperienze, bisogna stare molto attenti. E poi vedo le microcalcificazioni al seno, che la mammografia non le vede. Se le vede, non dice se sono benigno o maligno. Di conseguenza, io adesso ho fatto un'ecografia e ho visto l'ipertrofia prostatica con microcalcoli. Cioè è un processo infettivo. Quelli là non vanno via, possono ingrandirsi e possono formare la placca. Ma la cosa bella è che mi hai detto adesso, abbiamo fatto l'ecografia, in stanotte studio e domattina ti dico. Sì, ti dico sai perché? Perché ho trovato, a parte i calcoli che te li ho fatti vedere, le cisti e una cisti di 5 centimetri tra il rene e la milza, per cui io questa notte vado a ristudiare la foto, vado a riconsultare qualche testo perché hai quella cisti. Quella cista è grave? No, perché è liquida, non c'è problema, solo deve stare attendo a non urtarci. Perché se ci urti può rompersi. Quindi non posso fare pugilato. No, non voglio fare pugilato. Senti una cosa, allora tu qui hai tanti casi, cioè tu proprio vivi immerso nel tuo lavoro, è una missione. Sì, è una missione, penso di sì. Perché sto in pensione e seguo da lavorare, perché riesco a rendere felice chi soffre. Io curo, io curo la malattia, non curo il sintomo. Ci impiego molto tempo e nell'incertezza io poi chiedo collaborazione a qualche collega più bravo di me. Quindi io glielo descrivo, qualche paziente, lo faccio vedere a una dottoressa, che è la mia moglie, che è internista e assieme facciamo la diagnosi. Fino adesso sono stato fortunato, mai sbagliato. Beh, anche perché ci metti una passione, una meticolosità, io ho visto, ma hai tenuto sotto, hai voluto guardare da tutte le parti, con quella macchina è stata una roba. Ma tu perché sei un po' la pancia, per cui ti devo curare il fegato, la pancia, i reni, insomma, ti devo curare come si deve. Sì. Senti, altra cosa, tu mi hai parlato di un giardino. Cosa è questo giardino? Tu mi hai scritto, ti voglio parlare del giardino. Che giardino, cos'è il giardino? Il giardino della salute. Che cos'è? Ho una costruzione dove realizzeremo un centro di malattie curative. Cioè, io farò solo la parte medica. Quindi io curo il paziente, faccio la dieta, a che ora deve mangiare, come deve mangiare, a che ora deve prendere certi farmaci, e non dopo pranzo. A che ora? Prima o dopo? Ma dove? Sono delle sostanze che vanno preso un quarto d'ora prima di mangiare e mezz'ora dopo. Soprattutto quando applicherò la psico-neuro-endocrino-immunologia. È fantastico. E che cos'è? È una cura... C'è, praticamente, l'ipofisi produce certe sostanze. La melatonina, c'è delle sostanze endogene prodotte dal nostro organismo e esogene che io le metto dall'esterno, tipo l'aloe, la mirra, e delle sostanze contenute nell'ipofisi. Per cui io do... Non un cocktail. Queste sostanze che migliorano le difese immunitarie. Quindi ti faccio fare uno studio prima di tutti i linfociti, come lo farò a te adesso. ti darò dei documenti che tu me li devi fare certi esami. Io in base a quello potenzio il tuo sistema immunitario in base a se c'è una deficienza dei linfociti. A seconda se è quello B, T, insomma, una serie... Non ci sto capendo niente perché sono tutti termini molto tecnici, però capisco che sei competente. No, cioè io faccio questo, penso che non lo fa nessuno. Ecco, hai il progetto di questo giardino. Allora, il progetto di questo giardino in che consiste? Quindi tutte abitazioni con la paglia, c'è una paglia fantastica, dove faremo delle stanze, degli mini appartamenti e in sei mesi dalla posa della prima pietra si inaugurerà. E lì ci può venire chiunque. Quindi ci saranno anche 4-5 ettari di terreno dove faremo l'agricoltura, tutta lì. Quindi il crudismo, ma fatto in un certo modo, dove io ho letto dei libri, dei testi, quindi io farò la parte medica. I contadini faranno i contadini. Poi ci sarà un teatro, ci sarà una chiesa, ci saranno tanti personaggi che verranno a lavorare, a collaborare con noi. Adesso dei pazienti che devono venire, non so, da Reggio Calabria, ma hanno telefonato e devono andare su e giù oppure restare qua. Loro lì, sta lì 15-20 giorni, lì cura, come ho fatto questo signore che gli dovevano amputare la gamba, uno di treviso, questo qua è stato qui 15 giorni, lo medicavo mattina e sera e è andato via con la gamba guarita. Quella lì. È chiaro, deve stare sul posto, gli devo dare una certa dieta, devo medicarlo, insomma ci vuole un bel po'. E allora tutto questo può realizzarsi in questa struttura, dove ci sarà l'amore, c'è il bene tra di noi, ci si riunisce, si balla, insomma è un progetto molto bello, dove questo materiale è antiallergico e siamo in contatto con una ditta di Trento, dove lui fa tutto, arriva e li montano, piano terra, tre metri corridoio e il progetto è fantastico. Qui è una zona tutta pianeggiata. Quando lo riuscirai a farlo? Quando riuscirai a farlo? Allora, io sono ottimista, anche se sono pessimista, perché ho curato alcuni personaggi, le figlie, e hanno visto, insomma, che sono riuscito a curarli e gli ho parlato di questo progetto. Loro sono interessati, quindi io li incontro, già li ho incontrati, li incontrerò sabato, e faremo questo progetto. Ti chiamerò, sarai uno dei leader, verrà Enrico Montesano, verrà Sandro, tutti quegli amici simpatici, con il sorriso, saremo una famiglia allargata, dove ognuno deve amare l'altro, quindi balliamo, una cosa molto molto bella. Ecco perché l'ho chiamato il giardino della salute, dove questo grande amico, che è di Roma, si chiama Sergio, ha già fatto il loco, è fantastico, e, insomma, è chiaro, avrò delle difficoltà, però il terreno già c'è, c'è chi finanzia, insomma, ti chiamerò alla posse della prima pietra. Certo, ecco, tu vivi per queste cose, vivi per far star bene la gente. perché io ho sofferto. Cos'hai sofferto? Io all'età di 6-7 anni ho operato di appendicità acuta, pelvi peritonite, il medico non venne, perché disse a mia madre, no, qui se non vuole andare a scuola, non vuole andare a scuola, mia madre gli sono tre giorni che non fa scuola, nausea, vomito, proprio la sintomatologia di un appendicità acuta. Operato, c'è un taglio lungo, dissi farò il medico, impezzabile, con dadino, muncevo le vacche, eccetera. Andavo ad aiutare mio nonno, mio nonno a mettere a letto mio nonno, ha avuto, era, ha avuto una paralisi, quindi ha stato così salivazione, e ogni volta che andavo, lui si commuoveva. e io dissi, farò una casa di riposo, l'ho fatta qui a Giuliano, domani se avremo tempo ci passiamo davanti un gioiello, e lì ho lavorato con dieci banghe e venti librette d'assegno, ho fatto dei movimenti bangeri veramente da premio Nobel, e lì questa struttura, io vivevo là, quindi aiutavo a pulire gli anziani, di notte pulivo per terra, perché all'inizio era un po' difficoltoso, e lì ho visto l'anziano abbandonato. C'è uno, arriva a una certa edà, dopo tanti sacrifici, invece di essere, di volergli bene, c'è, io stavo lì, gli volevo bene, poi la mia presenza per loro era già una terapia, e ogni anziano prendeva dieci, dodici farmaci, chi per la pressione, chi per il... insomma, un casino totale. E lì capì che si poteva fare la prevenzione per tutte quelle malattie. Quello che sto facendo adesso, l'ultimo sogno, mi resta questa struttura, se tu c'è la possibilità, vuoi collaborare, la struttura non sarà mia, e di chi la fa. Io farò solo il medico, con... io adesso ho preparato, adesso vengo nel caso, ho preparato proprio delle terapie personalizzate, in base a determinate patologie, con i menu personalizzati. Adesso lo sto facendo. Se si fa, si fa. Se non si fa, pazienza. Grazie. Prego. Vuoi far vedere dove dormi? Vuoi vedere dove dormi? Quello è un appartamento qui in Alizio. Cosa vuol dire qui in Alizio? È 700 metri, no? I cardinali, che c'hanno quegli appartamenti. Il mio è come pozzetto. Andiamo a dirlo? Sì. Per far capire come tu vivi e come la passione non ti dia certo i soldi. Vieni. Vedi, questo ero quando ero un giovane, 30 anni. Questa è tua figlia, bellissima. Questa è mia figlia. Questo è, quando pensavo, guarda qua, era un porcellino. Mia figlia. Questa è mia moglie, mia figlia, quando si è sposata. Vabbè, queste sono, questo qui è un artigiano di Firenze. Gli ho curato la prostata e mi ha regalato questo. Quello è quel Sergio di Roma che è veramente un artista. Mi ha detto quella è la mia vita. Adesso adesso avrei fatto. Qui c'è il curriculum. Curriculum dei giornali che hanno scritto di te. Sì. Ecco. Scusa. Qui ci sono i libri. Sì. Qui sono la mia terapia, la micoterapia. C'ho delle sostanze di Montanari, c'ho dello scienziato. Sì, ti devo dare anche quelli della via Cia. Adesso sì, devo dare anche. Ecco. Qui sono ritornato studente. Sì. Questo è il letto. Qui ti fai da mangiare. Qui c'è un fornello. Oggi ho fatto la spesa. Tutta a base di frutta. Verdura. Verdura. Tutto. Vedi? C'è l'armadio, c'è tutto qui. Qui, ecco. Tu vedi qui. Vivo qua. Questo è l'armadio. Quindi quando io esco tu ti metti qui e studi tutto. Studi anche lì. No, adesso siccome sei venuto tu mi hai stimolato. Io tornerò a studiare il tuo caso e domani mattina ti dirò cosa dobbiamo fare. A parte domani mattina ti dirò quello che devi fare. Certo. Quali esami devi fare per curarti. Certo. Qui le scarpe qui c'ho la biancheria come lo studente sai? Qua. Vuoi vedere? Lo facciamo vedere? Vai, vedi. Vedi. Guarda. Mutanti, i calzini. c'è uno spettacolo. Qui c'è il bagno. Ebbè certo. Vabbè ma è inutile far vedere tutto adesso. Vabbè qual è il problema? Già che ci stai. Vedi questa è una doccia per lavarmi la testa. Eh. E così. Vedi. perfetto. Mi lavo la testa ma asciugo. E' chiaro sono in affitto e lì mi vado a fare la doccia tre volte alla settimana e qui vabbè ecco c'è tutto. Qui sei un spettacolo Roberto. Qui c'è il frigorifero lo vedi? Eh ma c'hai tutte le comodità c'hai. C'è la l'inzalata. Sì. Insomma. Sai perché ha voluto far vedere? Perché è giusto far vedere prima di là mi hai fatto vedere un apparecchio di 140.000 euro per far vedere come tu investi soltanto in apparecchiature. Beh lì non investi niente. 300.000 euro sì. L'onda d'urto l'altro apparecchio favoloso quello del colposcopio e quello lì. Ecco. Quindi erano 3-4 appartamenti all'altro. No no questo è Roberto Petrella il dottor Petrella dove vive dove opera e dove salva le persone o le aiuta a salvarsi. questo è molto caro uno che ho curato la prostata di Roma tu che curi con amore e competenza i malanni umani prova ad alzare la tua anima e sciogliere insomma un bel una poesia Sergio sì molto molto grazie Roberto grazie a te tu mi hai dato un'enormità l'importanza della crudezza cosa può mangiare mutazione genetica tu mi fai fare un esame per la mutazione genetica onde d'urto cosa mangiare in primavera d'estate dappertutto prevenzione della prostatite a livello esterio esami da fare guarda quanti esami devo fare quello è importante ma perché devo fare tutto perché dai tanti esami io faccio la richiesta degli esami in base alle patologie che trovo non scrivo solo la zootemia glicemia transaminale le solite che si fa comunemente quindi ho fatto una lista e in base alle malattie che trovo richiedo gli esami specifici per ogni patologia per cui sembrano molto ma io devo sapere se c'è una carenza di minerali per la prostata è importante selenio zingo per cui richiedo questo poi se uno ha problemi tiroidei richiedo esami della tiroide in più faccio l'ecografia alla tiroide perché per quanto riguarda la prostata ci deve essere un'armonizzazione ormonale con gli estrogeni progestinici e la tiroide ecco perché sembrano molti poi faccio la richiesta ormonale perché è importante sapere la quantità di ormoni maschili o femminili che a un uomo sono gli stessi delle donne perché sono nati dalla stessa cellula per cui io dal seno sono passato alla prostata gli ormoni sono uguali in quantità minore però ci sono per cui se gli ormoni maschili sono diminuiti nell'uomo come faccio a saperlo per curare? devo fare la richiesta degli esami perché se gli ormoni sono diminuiti il testosterone progesterone il pregnenolone è molto importante perché mi dice se si ha una predisposizione alla demenza senile alle malattie degenerative è importante all'amnesia è molto importante questo ormone per cui se questi ormoni sono diminuiti aumentano gli estrogeni aumenta l'estradiolo l'estrone e aumenta la prostata quindi io devo fare uno studio di questi ormoni ma nessuno ha fatto fare tanti esami questo non lo so però da tutti i pazienti che io vedo che stanno venendo da tutta l'Italia anche dall'estero perché ho visto che c'è nel lettere dalla Germania sì è arrivato un francese poveretto che aveva un catetere in Mescica voleva risolvere il problema gli ho detto io non posso perché ci vuole una struttura ecco perché il giardino della salute quindi con questa struttura quello lì sta lì un mese si cura e se ne torna a casa e poi la malattia genetica l'emtiere è molto importante quella lì non la richiede nessuno quella dovrebbe essere richiesta da tutti i medici perché si ha una predisposizione a tutte quelle malattie allora uno fa la prevenzione questa è prevenzione allora se rischia gli aborti se rischia la malattia della tiroide malattia autoimmune se rischia il cancro e dice ma io come faccio io a sapere in dando sei un uomo quindi ti vedi la prostata ti fai l'ecografia oncologica stai attento e caro non è che io con quegli esami posso però mi aiutano a fare diagnosi a curare quindi se si rischia il diabete stai attento quindi tu da piccoli a tuo figlio non gli fai mangiare l'ira di Dio perché adesso i bambini sono più diabetici da piccoli che da grandi perché bisogna questo sarebbe la prevenzione fare l'insegnamento all'università l'alimentazione basilari invece questo non viene fatto ma i medici non danno l'esame di alimentazione no scienze dell'alimentazione c'è ah è facoltativo bravo facoltativo sì io ai miei tempi anzi non si prendeva neanche in considerazione appunto sì ma poi i medici ti dicono erroneamente che bisogna mangiare poco ma di tutto no bisogna mangiare poco ma non tutto gli insaccati contengono quello che contengono la carne va mangiata ma non a cento gradi diventa croleina diventa cangro c'è tutto a un limite l'ideale è mangiare tutto ciò casereccio c'è la carne di pollo quella bovona dura quella bisogna mangiare e la carne da pascolo perché la carne da pascolo non è che gli danno gli ormoni perché gli danno gli ormoni a tutti i bovini appena nati gli mettono nell'orecchio nove tipi di ormoni e in cinque sei mesi pesano dieci condali non li muovono li fanno muovere la gente non sa queste cose tutto ciò che contiene le galline che vanno all'aperto cioè bisogna ritornare alla natura al condadino vabbè ma io sono vegetariano quindi è un problema che non ho sì lo so però è importante che lo sappia anche la la gente grazie prego tu hai letto le notizie che hanno ucciso un medico ah no uno che ha dichiarato del grafene ha fatto la dichiarazione del grafene hanno ucciso sì ho paura anch'io perché ho paura non di morire ma di soffrire cioè se c'è perché curo per cui siccome curo tante malattie l'ipertensione colesterolo alto l'artrite reumatoido la scimoto insomma molte oltre 100 malattie questo nel tempo può creare un deficit economico alle case farmaceutiche perché tutti quelli che sto curando stanno tutti bene proprio non prendono più il farmaco il farmaco va preso in caso di necessità e per breve periodo quindi quando adesso danno tutti questi farm per la pressione eccetera per un po' li prendono poi non li prendono più e seguitono con le mie terapie la micoterapia e la dieta e tante altre cose per cui ho paura di questo il farmaco e la dieta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.